Scusate Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Vai, vai. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 No, no, perché l'ho sbagliato. Ah, vabbè, no, perché... Ho sbagliato, ho perso velocità e poi è stato peggio. No, no, perché l'ho sbagliato. Però a prescindere non vado più forte per le esperienze per crescere, perché ho sempre piato mattate, capisci? Invece... No, no, ho avuto giusto qualche volta. L'avevo regalzato? No, l'avevo regalzato. Ah, sta qua. Vabbè, l'ho lavorato bene. Guarda, tu stai fatica male. L'ho preso giusto... Guarda la pulpa. No, 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 no. Ah, la musica, sì. Ecco, questo è un po' troppo origine, l'ho sempre detto. Tutti piace, va bene così. No, vabbè, ha preso... È un IPC. Ha preso una bella fiducia. Allora, era lei. No, tango! I tempi che sono stati andato 08.5, sì. È stato 4-5 metri troppo, quindi a me ne ando troppo qui. E il giorno... Il giorno verrò... però il 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 salta ma il 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 cioè, sta andando su una parete e' atterrato e' atterrato direttamente da un'altra parte ed è stato rinforzato ed è stato rinforzato ed è stato rinforzato ma non si piace proprio questo perché si è rinforzato e abbraccia una coppa del popolo e si è andato toccando bene, bene Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.